Grazie facciamo un scipennone dove va? sotto sotto signorin un po' di spazio per favore grazie Lucio dove va? buon' volta ragazzi buon' volta ciao buon' volta buon' volta buon' volta e 9 euro facciuta allenare rimane che a portavo allora faccio uscire un'altra parte però che pensate di fare la manovra? la presa un'altra si tende a su assi riscende eh attenzione attenzione signori grazie attenzio attenzione 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 Giannicole, salutiamo il mister. Non c'è verso di...